Da Acquavena alla vetta del Monte Bulgheria, lungo il sentiero Le Scalette, un percorso suggestivo che si sviluppa su mille gradoni scavati nella roccia. Man mano che si sale spuntano i paesaggi sulla valle del Mingardo e le montagne dell'Antiglia e del Cervati con i paesi ai loro piedi. Da oggi quell'itinerario mozzafiato porta il nome di Alberico Cusatis, un giovane esperto escursionista di Acquavena, in una piccolissima frazione di Rocca Gloriosa, scomparso nel giugno scorso dopo una dura lotta contro una brutta malattia. Era il tesoriere dell'associazione Massiccio del Bulgheria, che per mantenere vivo il suo ricordo ha pensato di intitolargli il sentiero di cui era più innamorato. Un'idea che è stata condivisa da subito dal sindaco Giuseppe Balbi, anche lui iscritto all'associazione. Sabato scorso è stata scoperta la targa con l'intitolazione alla presenza della famiglia. Alberico deriva dal nome germanico Alberic, che vuol dire signore degli elfi, personaggi benigni della mitologia nordica, che impersonavano le forze della natura, i boschi e le montagne. E allora, spiegano dall'associazione, ci piace pensare che quando percorreremo questo sentiero non saremo mai soli, ma ci sarà sempre a farci compagnia e a proteggerci il nostro elfo Alberico.